signor renzerini mentre pota queste piante potrei farle qualche domanda ci siamo chiesti se questa tipologia di pianta idonea per gli orti urbani certamente che idonea per gli orti urbani sembrano fatti apposta producono 4-5 kg di mirtilli sono in mastello si possono bagnare domesticamente si consumano direttamente dalla pianta la raccolta dura 2-3 settimane si mangia la freschezza totale la salubrità totale la concimazione può essere fatta semplicemente con dell'organico anche fatto in casa volendo si possono mettere perfino le rotelle si porta in cucina al mastello più di così basta avere un terrazzo un giardino un terrazzo un balcone ce ne sono ce l'abbiamo già è qualche esempio